Se l'obiettivo di Antonio De Caro era quello di valorizzare il lungomare di Bari, quello del nuovo sindaco Vitore Cese, da primo cittadino della città metropolitana, è quello di creare un waterfront provinciale che valorizzi i territori che si affacciano sul mare. Punto di partenza è il riconoscimento di Costa Ripagnola come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Per questo il sindaco ha chiesto alla consigliera Francesca Pietroforte, delegata ai beni culturali e vicepresidente dell'Associazione Provincia Unesco Sud Italia, di rilanciare l'impegno della città metropolitana di Bari affinché il tratto di litorale di Costa Ripagnola venga riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Nei giorni scorsi il Consiglio metropolitano aveva approvato la decisione che attribuisce al parco una valenza strategica trasversale, prevedendo l'inserimento del progetto come passaggio funzionale alla creazione della rete dei parchi della città metropolitana. Il tratto di Costa tra Cozze e Polignano testimonia l'antica interazione tra uomo e ambiente, custodendo la relazione che si è sviluppata nel corso del tempo tra i diversi tipi di terreno e la varietà delle coltivazioni. Il riconoscimento UNESCO, ha spiegato il sindaco della città metropolitana Vito Leccese, rappresenterebbe un passaggio importante per assicurare la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale in esso contenuto. Leccese ha poi auspicato la ripresa da parte del Consiglio regionale dell'iter legislativo, ormai arenato per l'istituzione del parco di Costa Ripagnola.